lights camera action dell'etna in provincia di catania u8 charlie ecoradio qui al microfono i t9 icg dalla città di randazzo il mio nome è gianluca a te salvatore u8 charlie ecoradio i t9 icg ok gianluca non ho anche arrivi segnali un po bassino ma arriva poiché pensavo che fosse giovanni prima la propagazione stava scendendo in partizia un segnalone proprio viene scesa la propagazione in questo momento non è molto buona comunque ti ascolto bene gianluca e scusa mi ho risposto subito perché pensavo che stesse facendo qualche prova l'amico giovanni italia tango 9 chilometro zero chilomaic oscar praticamente non l'ho sentito giovanni vediamo un attimino giovanni giusto per realizzare ecco siamo dall'altra parte di non lo sento più gianluca aspetta che giro un po l'antenna verso mi ha detto che stai verso dove stai verso catania messina versante etna nord su catania su catania diciamo che io sono tra me catania c'è l'etna che fa da muro però ti ascolto benissimo io sono con una semplice verticale e salvatore una 510 n un 991 america a te una gran bella radio dai io sono con 970 h i comici 970 stavamo commentando con giovanni questo momento vabbè ti ho puntato un pochettino meglio e ti ascolto diciamo un segnale leggermente più alto e sei sull'utile del 5 s5 qui sulla mia radio 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 5 tranquillamente ok gianluca a te ancora vatti sì salvatore io poi mai metterò un video su youtube per farti capire come arrivi bene tra l'altro ho acquistato su amazon una cassa sound bar che veramente fa uscire la qualità dell'audio ottima ci siamo sentiti comunque in 40 metri salvo e neanche così tanto tempo fa per me la prima volta nei due metri parlare con napoli non vorrei sbagliarmi in fm tra l'altro quindi sono molto contento di di averti ascoltato osservatore tu sei con un segnale di 7 8 io volto charlie ecco radio it 9 icg perfetto perfetto c'è luca no e guarda noi parliamo sempre perché ci sentiamo spessissimo con gli amici sia sia dal lato tuo sia dal lato di palermo trapani carini ma da tutte le parti e quindi tutto questo versato la sicilia tranquillamente ma ci sono anche amici da ragusa addirittura che stanno dall'altra parte li sento li sento bene anche loro e quando c'è un po di propagazione poi non te ne parla segnali 9 30 e 40 poi ci divertiamo un pochettino ok mi ha fatto piacere sentirti ciao ti lascio la buona domenica e adesso non c'è propagazione è scesa totalmente ma non ti sento lo stesso ciao gianluca presto io 8 ciao del coraggio salvatore qui napoli si salvatore io 8 charlie ecco radio it 9 cg che riprende ci siamo sentiti l'ultima volta nei 40 metri il 25 settembre poi monterò un video su youtube e vedrai come arrivi veramente bene qui su randazzo considera che come dire io catania non riesco a prenderla in linea ottica insomma nei due metri è impossibile sono un po più aperto verso la calabria va bene ti auguro una buona continuazione salvatore c'è un'ottima propagazione nei venti metri c'è l'australia che arriva quasi fondo scala stasera in sicilia ed è inusuale per l'orario ad ogni modo un abbraccio e ci sentiamo presto io 8 charlie ecco radio it 9 icg ok ok gianluca ciao grazie mille ci darò uno sguardo dai youtube ok grazie ancora tanti saluti buona serata 73 da napoli qui u8 charlie ecco radio salvatore napoli ok grazie mille ciao gianluca grazie mille ciao grazie mille grazie mille